I nomi che ho appena letto sono i nomi di alcune delle attiviste per il clima più attive, più in vista negli ultimi anni, che più si sono fatte notare, più si sono battute per la crisi climatica. Notate qualcosa di particolare? Tutti i nomi che ho letto sono leader del movimento per il clima e sono tutte donne. Ci sono chiesti effettivamente con studi scientifici alla mano se ci fosse una maggior propensione, se ci fosse un qualche fattore particolare che rendesse il movimento per il clima molto più attrazione femminile. Alcuni studi hanno confermato che è così, alcuni studi hanno confermato che non solo le donne sono incredibilmente più colpite dalla crisi climatica e lo saranno nei prossimi anni, ma che sono state in grado negli ultimi anni di esercitare un ruolo molto maggiore di leadership, di risonanza con le persone, con i temi della Terra e in grado di sollevare i temi che finora non erano mai stati sollevati. Benvenuti sul pianeta Terra. LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, insieme a Giovanni Mori. Buongiorno, buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi siamo qui all'Anfiteatro del Liberty per Today at Apple. Domani in realtà saremo su tutte le piattaforme di streaming, quindi da domani mattina presto potrete sentire questa puntata dovunque vorrete e a quel punto sarà già sabato. In queste puntate speciali cominciamo con una carrellata delle notizie principali avvenute durante la giornata, ma soprattutto poi abbiamo degli ospiti, dei super ospiti speciali intervistati dai nostri host di LifeGate e oggi, intervistato da Nur Alabash, avremo Margherita Vicario. Oggi in veste non solo di cantante ma in veste di regista con il suo nuovo film appena uscito. Ma cominciamo subito con quello che è successo oggi, nel senso che oggi è venerdì 19 aprile 2024 e c'è appena stato lo sciopero globale per il clima, organizzato da Fridays for Future, da tutti i movimenti per il clima in giro per il mondo, anche qua a Milano, qua in Italia in 30 città e in centinaia di città in giro per il mondo. Lo dicevamo ieri, sono passati cinque anni da quando è cominciato il movimento globale per il clima, quest'ultimo movimento globale per il clima e lo leggevamo in apertura di puntata. Non è un caso che praticamente tutti i nomi che vi ho appena letto sono nomi femminili e alcune cose che hanno fatto alcune di queste donne. Rachel Carson che ha scritto Primavera Silenziosa nel 68 ha dato praticamente il via al movimento per il clima scientifico per come lo conosciamo oggi e quella che ha descritto appunto in Primavera Silenziosa gli effetti devastanti del DDT che aveva sulla natura al punto che la primavera era diventata silenziosa. Vangari Matai negli anni 70 è una di quelle che ha fondato il Green Belt Movement che ha piantato negli anni, lei e il suo movimento, 30 milioni di alberi attivando centinaia e migliaia di donne in tutto il mondo. Jane Godal che ha permesso di capire la relazione strettissima che abbiamo con specie molto simili a noi fondando delle branche fondamentali della scienza come la conosciamo ora Greta Thunberg che 5 anni fa, anzi 6 anni fa nel 2018 ha cominciato a scioperare davanti al Parlamento svedese con dei leggings leopardati e un cartello che diceva Skollstrike for Klimatet Luisa Neubayer che è stata la leader tedesca del movimento Fridays for Future Adelaide Charlien in Belgio è stata una delle prime Cristiana Figueres che era al tempo la segretaria generale delle Nazioni Unite che è stata una delle architette dell'Accordo di Parigi il primo e anzi unico finora accordo mondiale che abbiamo per ridurre le emissioni per provare a tenere la temperatura media globale all'interno dei 2 gradi centigradi Vanessa Nakatè, attivista dell'Uganda, Uganda paese colpitissimo dagli eventi estremi già ora e che proprio qui tra l'altro a Milano alla Pre-Cop è emersa come una delle voci più autorevoli dell'attivismo per il clima mondiale, Alessandra Villaseñor negli Stati Uniti Covexie Bastidi, Ananda Burada e Jane Fonda, una delle attrici forse più famose di tutti i tempi che più e più volte si è fatta arrestare davanti alla Casa Bianca con il suo cappottino rosso, con il suo trencho rosso che è diventato ormai unicona perché ogni settimana puntualmente andava a farsi arrestare lì ora un'altra delle correlazioni che legano molto le donne ai cambiamenti climatici e che è stata assolutamente provata è il fatto che le donne hanno l'80% di probabilità in più di essere colpite dai cambiamenti climatici futuri per molti motivi diversi, principalmente sono motivi socio-economici sono solitamente individui più fragili all'interno delle società per come le conosciamo sono spesso individui che non in tutte le parti del mondo hanno accesso ai gradi più alti dell'istruzione e per tutti questi motivi sono quelle che durante gli eventi climatici estremi statisticamente vengono più colpite, hanno molto spesso meno fondi ma è un dato italiano senza andare molto lontano quasi il 50% delle donne in Italia non aveva ancora accesso a un conto corrente proprio per tutti questi motivi dare i diritti, anzi non dare, garantire i diritti fondamentali alle donne in tutto il mondo è anche una delle soluzioni più efficaci in termini di riduzione di gigatonnellate di CO2 che abbiamo per risolvere e per affrontare la crisi climatica. Project Drawdown è un istieme di ricercatori, di ricercatrici che in tutto il mondo hanno studiato queste correlazioni, hanno visto in un sacco di nazioni cosa può comportare e hanno visto che questi due aspetti, ossia garantire l'istruzione fondamentale a tutti i livelli di istruzione alle ragazze e alle donne è la quarta azione più efficace che potremmo fare da qui al 2050 per ridurre le emissioni e uno dice in che senso garantire i diritti può ridurre le emissioni? È molto stretta la correlazione perché è fondamentale non solo perché è un diritto ma perché garantiremmo anche a metà della popolazione mondiale di accedere a tutti i gradi di istruzione e decidere se, quando, quanti figli fare e questo avrebbe ricaduto poi anche sulla pianificazione e si è visto tra l'altro anche qua studi alla mano, numeri alla mano e quando si fanno gli acquisti circa il 68% degli uomini presta attenzione alla sostenibilità degli acquisti mentre questa cosa è vera per l'88% delle donne. Quindi evidentemente anche proprio a livello statistico è stato misurato quanto ci sia maggior sensibilità al tema in tutti gli aspetti. Insomma è uno degli aspetti fondamentali mettere le donne al centro della transizione non tanto per una questione diciamo così solo etica o strategica è fondamentale se vogliamo arrivare a raggiungere gli obiettivi. Insomma garantire la varietà di genere è una delle soluzioni più efficaci, più forti che abbiamo per affrontare le sfide climatiche dei prossimi decenni e questo è dati alla mano, non c'è nessuna particolare ipotesi che poi non ne sia stata verificata. Tra l'altro proprio oggi abbiamo visto che la nuova rettrice del Politecnico di Milano è una donna dopo 100 anni, cioè la prima donna dell'Università Statale di Milano, scusate non il Politecnico di Milano e proprio il film di cui si parlerà dopo, Gloria ambientato nell'Ottocento di cui Margherita Vicario è stata regista, ha al centro anche questo tema. Tra l'altro a proposito dei danni da cambiamento climatico, giusto ieri sono usciti dei numeri a proposito di quanto costa fare la transizione o quanto non costa fare la transizione, ecco uno su tutti, hanno visto che quello che stiamo già ora pagando per le conseguenze degli eventi estremi è circa 6 volte tanto rispetto a quello che pagheremmo se semplicemente facessimo questa benedetta transizione. L'economia mondiale rischia di perdere il 20% del reddito da qui al 2050 a causa dei cambiamenti climatici e tra l'altro in Italia rischiamo di perdere il reddito delle persone fino al 15%, in Francia il 13%, in Spagna fino al 18% per i rischi più alti della desertificazione. Questa cosa qua ha stimato in danni attuali ad oggi in tutto il mondo 38 mila miliardi di dollari, danni complessivi per via degli eventi climatici estremi che già ora si stanno verificando. Sappiamo tra l'altro che ogni decimo di grado rischia di aggravare molto la crisi climatica e i danni che porteranno. Come se non bastasse le fasce più vulnerabili già ora sono, come abbiamo già detto, quelle più colpite. Ora il film di cui parlano dopo ha proprio questo al centro, ma per parlarne invito sul palco Noor Alabash che è la direttrice artistica della Milano Music Week ed è anche la direttrice di Fondazione Music Lab. Prego Noor. Faccio accomodare di qua, ti lascio direttamente il microfono, ti lascio l'intervista, tutto lo spazio del mondo, sistematevi sul vostro posto preferito e buona chiacchierata, ci vediamo alla fine e basta. Grazie, grazie mille e benvenuti, grazie mille a LifeGate per avermi invitato. Oggi siamo qui in questa speciale edizione di News del Pianeta Terra live da Apple Piazza Liberty e abbiamo con noi, lo sapete, un ospite veramente speciale. Molti la conoscono come artista, cantautrice, altri la conoscono come attrice, ma oggi la avremo qui in veste di regista. Fate un grande applauso per Margherita Vicario. Buonasera, ciao. Ciao, eccoci. Ciao Margherita, come stai? Bene, benissimo. Sempre tra un treno e l'altro, però benissimo. Infatti ho visto, sto seguendo un po' il tuo Instagram questi giorni, che fai anche tre presentazioni in una sera. Sì, non credevo fosse possibile, ma tre città dalle sette a mezzanotte. Bologna, Cesena, sì, tutto insieme, però si fa, si fa. Bene, allora sei in tour in questo momento in Italia, poi tra un po' andrai anche all'estero, mi hai raccontato Tokyo, Seattle, Corea, cioè questo film sta avendo un successo interplanetario, direi. Ci racconti un po' di che cosa parla e soprattutto come è nata l'idea di fare un film, visto che appunto, come abbiamo detto prima, tu sei stata, sei attrice, sei musicista, ma finora non ero ancora mai stata regista. No, non ero ancora mai stata regista, però era il mio sogno da sempre quello di riuscire a realizzare un film che avesse la musica come protagonista e quindi, come dire, la volontà di base era quello di svelare, raccontare e mettere in scena che cos'è la musica per me e anche l'effetto che ha sulla mia vita o le funzioni che può avere la musica nella vita di un sacco di persone anche che non lo fanno di lavoro perché ognuno di noi ha un rapporto intimo con la musica anche se poi la mattina va a lavorare, boh, come in banca, in negozio. E quindi diciamo, quello che poi è successo è che ho scoperto un'ambientazione che era perfetta per questo tipo di desiderio un po' più invece intimo e privato e profondo perché è tutto nato da questa domanda che mi facevano sempre cosa pensi delle donne nella musica. Anche a me l'hanno sempre fatta. A te te l'hanno sempre, immagino. E questa domanda dopo un po' a forza di sentirsela dire mi ha buttato un po' nello sconforto della serie, ma è così, cioè mi sentivo come appartenente a una categoria veramente speciale e quindi ho detto, beh, per rispondere bene a questa domanda fammi indagare. E quindi ho fatto una ricerca sulle compositrici, insomma, la prima che ha scritto, che ha firmato un libro di Madrigali è nel 1564, Maddalena Casulana, che tra l'altro nella dedica di questi Madrigali, insomma nella dedica iniziale, dice per dimostrare che non solo gli uomini sono dotati di intelletto e fantasia, diciamo era bella guerrita. E insomma in questa ricerca ho scoperto questi istituti nel 1700 di accoglienza per orfane e c'erano queste centinaia di orfane educate alla musica, suonavano per la gloria di Dio, però era vietato per loro suonare al di fuori dell'istituto. Della gloria di Dio. Della gloria di Dio. E ho pensato, beh, ma sicuro ci sarà stata qualcuna con, no? Cioè erano talmente brave come musiciste che per forza qualcuna di loro scriveva. E quindi ho approfondito la ricerca di quel contesto e ci ho messo però tutti i fatti miei, nel senso sono cinque protagonisti, cinque ragazze e il vero traino di tutta la storia è una che invece è un'orfana autodidatta, non educata alla musica, che scova un pianoforte e lo suona come lo suonerei io oggi. E quindi c'è tutto questo, come dire, anacronismo musicale nel film. È una cosa veramente molto bella questa. Io quando ho saputo, insomma, che il tuo primo film era in realtà un film in costume, non ci volevo credere perché non me lo sarei mai aspettato. E poi il film, poi, quando lo andrete a vedere, è senza dubbio con un'ambientazione storica, anche appunto con una certa aderenza alla realtà, visto che c'è stata una ricerca dietro filologica. Però allo stesso tempo è anche un po' fantastico, anche un po' pop. Quindi com'è stato cercare di trovare questo equilibrio tra credibilità storica e attualità, alla fine? Allora, innanzitutto sono partita dal fatto che se uno fa un film in costume deve comunque riuscire a creare un immaginario che sia credibile, no? Perché se no, dici, vabbè, vado a vedere questi che si sono mascherati da mine del Settecento. Quindi anche a livello estetico tutta la fotografia e la scenografia, ma le stesse facce degli attori e delle attrici che ho scelto sono molto in stile. Cioè, sono tutte facce molto d'epoca. E anche l'immagine è molto polverosa e molto pittorica. E secondo me da questo punto di partenza potevo poi partire con la tangente della musica invece più pop. Perché una volta che sei dentro, che dici, vabbè, ci credo che questo posto poi è realmente esistito. Perché ci sono tutti, per esempio, le musiciste suonano tutti strumenti veramente barocchi, con gli archi, con le corde in budello invece che in nylon. Insomma, c'è una certa cura filologica. Però poi ci ho messo invece della musica totalmente moderna, alternata ovviamente a musica d'epoca, perché il film di base parla di fantasia e creatività, che è una cosa che non potremmo mai sapere cosa le passava per la testa a questa ragazzina, no? Che suona il pianoforte. E quindi, ovvio, è un gioco col pubblico, è un patto col pubblico. Io penso che è una delle scene in assoluto più forti, ma ce ne sono veramente tantissime, perché è un film, poi, per chi l'ha visto, lo andrà a vedere, ti fa ridere, ti fa piangere. Questo è un commento che ho letto spesso, no? È un film dove c'è un su e giù di emozioni e ti intrattiene, ti lascia qualcosa di veramente prezioso dentro. La prima scena, però, è veramente particolare. C'è Teresa, se non sbaglio, si chiama una delle protagoniste, che è questa orfana che è lì, in realtà, come sguattera, no? Sì, beh, erano divise in figlie comuni e figlie di coro. Cioè, magari c'erano 800 persone che vivevano in quell'istituto, la maggior parte erano figlie comuni, cioè portavano avanti le mansioni, come in un orfanotrofio, che ne so, se vai in… Autogestito. Sì, non so, mi ricordo mia madre era andata nel sud del Kerala in India, in questo orfanotrofio dove erano tantissimi e solo alcune ragazze poi studiavano come infermiere e diventavano infermiere e poi mantenevano, no? Mandavano i soldi a casa, quindi un po' la stessa cosa. Cioè, in questi istituti parte di loro facevano le musiciste. E quindi c'è questa prima scena in cui Teresa è una delle guatteri, chiamiamola così. Figlie comuni. Figlie comuni che non ha… che non riceve lì dentro un'istruzione musicale, che però ha questo istinto dentro di sé e sente la musica in qualsiasi movimento e azione quotidiana. Quindi volevo capire un po' come è nata proprio questa prima scena che è così particolare e rimane in testa. Ma inizialmente, abbiamo detto il titolo del film? Gloria! No, perché magari uno parla e poi dico sì, ma come si chiama? Si chiama Gloria, col punto esclamativo. Comunque no, è vero, è l'opening, l'opening del film, che è questa sequenza dove in realtà è una cosa che abbiamo magari visto anche altre volte nei film Disney, ma anche Charlie Chaplin in tempi moderni. Ora ovviamente do delle reference molto illustri, importanti, però è per dire che sono dei meccanismi che nel cinema sono anche già stati usati. E semplicemente lei costruisce una partitura musicale, soprattutto ritmica, e quindi ritmica moderna, pop, a partire dai suoni della quotidianità. E com'è nata? È nata prima sulla carta, non lo so, è nata dal fatto che io molto spesso mi sento un frigo che fa e il cervello inizia a metterlo in partitura. E quindi è nata in realtà in un pomeriggio con Dada, il mio produttore, che ha fatto le colonne sonora con me, e ci siamo messi lì con la scopa, con la carota, col tagliere e è stato un po' il biglietto da visita del film perché abbiamo usato quella prima traccia come dai finanziatori per andare dai produttori a dire il film inizia così, vi piacerebbe produrlo? E quindi a volte esatto, anche solo da un'idea, da una canzone poi può prendere il via tutto. E il resto delle canzoni come sono nate? Perché uno sentendo questo racconto potrebbe immaginarsi un musical, in realtà no, c'è un film pieno di musica sulla musica, ma non è un musical, però ci sono tante canzoni. Non ci sono tantissime canzoni, ci sono due, tre, il resto è musica strumentale e poi per esempio non è un musical perché cantano in presa diretta le ragazze quando i due, tre numeri che ci sono, sono cantati in presa diretta cosa che nei musical non si fa perché io volevo mantenere quella, no, la spontaneità della voce. E che cosa mi... Come sono andate poi le altre canzoni per le varie scene o... Beh, alcune sinceramente, le musiche del film, molte erano già nel mio cassetto e nel mondo da cui provengo e in cui lavoro, che è un po' quello invece più pop ovviamente, non avevano ancora mai trovato un posto perché non è che puoi andare dal tuo discografico e direi, senti, ci avrei questo pezzo di sei minuti strumentale, quello dice, ah, bello, interessante, carina. E quindi è stato un modo per usare anche melodie e musica strumentale che avevo e che però sentivo proprio nelle viscere e volevo che prendessero vita. Nel film ci sono tantissimi temi che emergono, che si intersegano in maniera veramente super armoniosa, secondo me. Uno di questi è appunto la creatività musicale e c'è un po' questo contrasto tra l'istinto di chi magari non ha ricevuto appunto un'istruzione in questo senso e si approccia ai tasti del pianoforte come un bambino e chi invece ha studiato e poi questo, diciamo, questi due tipi di approcci sono impersonificati da due delle protagoniste, giusto Lucia e Teresa. Tu hai vissuto anche in prima persona questo conflitto tra... Beh, io non ho mai studiato musica e non so leggerla, non so scriverla, però ho comunque fatto due album, due EP, addirittura un film musicale. È ovvio che poi contano le persone con cui... Cioè, proprio il senso del film è raccontare che la musica può esistere anche solo nella tua testa, però finché non trovi qualcuno con cui farle prendere forma, con cui realizzarla, rimane lì. Io quando ero piccoletta, tipo a vent'anni, la prima volta che ho suonato dal vivo, in realtà ho suonato dal vivo in ospedale, molto a lungo, perché seguivo una bambina che si stava riprendendo da un coma. Il che poi si è ripresa, bene, però pensa che l'ho seguita per mesi, per una vicenda familiare, era una bambina figlia di amici e parenti, insomma. E quindi lì, come dire, il mio primo palco è stato questa stanza d'ospedale e ho veramente capito sulla mia pelle quanto la musica, a prescindere dal fatto che possa essere un lavoro, però il valore taumaturgico, salvifico della musica e di quanto è importante, proprio per le sinapsi, per la fantasia, per la ripresa, per la cura, per la guarigione. A volte quando uno veramente sta giù, si vuole ascoltare la canzone che gli faccia esaurire tutte le lacrime che c'ha, oppure dice no, mi devo riprendere e si mette, che ne so, Taylor Swift e inizia a rimbalzare per casa, poi ognuno si mette la musica che vuole. Quindi c'è molto anche di questo, cioè di cos'è la musica per me e i suoi diversi veramente usi e fini. Poi certo vengo anche dal mercato, cioè vivo di quello, mi ci pago l'affitto, quindi c'è anche quell'aspetto. Però parla più della musica nel suo valore proprio curativo. Molto molto bello e questa cosa che hai detto, cioè che la musica si fa spesso e volentieri in gruppo, è un altro dei temi fondanti perché le protagoniste sono un gruppo di giovani donne, di ragazze. Perché per esempio la scelta di avere più protagoniste e non per esempio una o due, che sarebbe stata una scelta più ovvia, più classica se vuoi? Beh perché è ambientato nel, come dire, fine 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 barocco veneziano, è minimo un quartetto serviva, tant'è che nel film c'è una scena in cui c'è proprio un quartetto. Lucia, come dire, dice alle sue compagne, sapete ancora leggi? Beh perché poi è tutta una storia, un po' nemiche amiche che prima si odiano, poi vanno d'accordo. E ho deciso di far suonare a questo quartetto veramente un quartetto che viene dall'unica orfana arrivata ai giorni nostri, che si chiama Maddalena Laura Sirman, che è nata all'Istituto della Pietà e aveva un maestro però molto illuminato, molto buono, a differenza del Perlina che è il cattivo del film, che si chiama il maestro Tartini, che ha fatto di tutto per darle sposo a un compositore. Perché la cosa che mi ha scioccato quando ho fatto questa ricerca è che ho scoperto che solo figlie, sorelle o mogli di altri compositori potevano dedicare la loro vita alla musica e rischiare di essere anche pubblicate. Tant'è che Maddalena Laura Sirman, di cui ho preso appunto un quartetto e ho messo in scena il quartetto, l'ho trovata su YouTube con, so, 300 visualizzazioni. Ora spero che, perché comunque è arrivata ai giorni nostri, spero che salgano a 500. Mi prendo questa. Però la cosa assoluta è perché si è sposata con Ludovico Sirman, che era un compositore, ma anche quelle uniche compositrici che poi a uno viene in mente se dici dimmi una compositrice, non è che ce ne sono tante, ti viene in mente la sorella di Mozart, la moglie... Sì, è vero, sono sempre sorelle e moglie, ma anche per le scienziate è spesso un po' simile. Quindi tutto quello che è il tema della ricerca, della ricerca che è scientifica, artistica, vabbè, dall'altro lato poi c'è il dogma, la chiesa, è lì proprio, insomma, parte qualche santa, clamorosa, però poi... Esatto, tu tra l'altro nella tua opera anche da cantautrice nomini spesso la chiesa. Il mondo ecclesiastico. Sì, e qui ovviamente anche nel film, loro essendo in un orfanotrofio di stampo religioso, c'è la madre superiore, diciamo, c'è il prete capo, Berlina, e ovviamente sono... cioè, non ovviamente, ma nel film sono figure molto negative, molto castranti, no, della loro creatività. Eh, beh, beh, ora è ovvio che un film, anche questo film è anche costruito su dei topoi, è archetipico, ma perché lo volevo fare così, quindi se è il cattivo, è cattivo, e se la, appunto, Fidelia, che è la priora, che non è neanche una suora tra l'altro, perché le suorine erano altre, era un'istitutrice, però quasi che vorrebbe prendere i voti da quanto è suora. Ci sono figure castranti? Beh, sì, lo sono, e spesso lo sono anche verso le scelte delle donne, lo sono anche tre secoli dopo, lo sono anche oggigiorno. Poi è ovvio che non si fa di tutta l'erba un fascio, però che l'ambiente ecclesiastico sia abbastanza misogine non è che lo dico così, perché non l'abbiamo inventato noi. No, esatto. Però in quel contesto lì, oltre, appunto, Perlina, che è il prete Paolo Rossi, che lo interpreta molto bene, c'è un'altra figura maschile, invece, molto positiva, che è interpretata da Elio. Sì, sì, perché a me questa dicotomia per cui donne, ok, uomini, boo, l'odio, non mi piace, non è vero, parte del cambiamento è fatto, insomma, si fonda sul fatto che c'è insieme un cambio di pensiero tra uomini, donne e tutto il resto. Quindi no, c'è Elio anche, Elio di Elio e le storie tese, che fa un ruolo bellissimo, che è l'unico alleato delle ragazze, ed è il liutaio tutto fare. È un po' un geppetto molto buono. Eh sì, lavora con il legno, regala alla protagonista uno strumento inventato da lui, che è una kalimba, poi ovviamente le kalimbe sono strumenti preistorici, che esistevano da secoli, però lui gli costruisce questa kalimba con le zucche secche, insomma, è pieno di… comunque sì, c'è il buono, ovviamente. E tornando invece alle cinque protagoniste, e poi a tutte le altre ragazze che fanno parte del film, è un film assolutamente corale, che parla poi di sorellanza, non in maniera piatta, perché, come hai detto tu, ci sono poi dei contrasti interni, delle gelosie, delle frustrazioni, però alla fine questa sorellanza, oltre a sostenere tutte, anche nei momenti di difficoltà, è una forza prorompente, senza svelare che cosa succede, però diciamo che è qualcosa che fa saltare il tappo. Eh sì, ora no spoiler, perché il finale comunque è venuto bene, quindi è inutile dirlo prima. Preserviamolo. Preserviamolo. C'è proprio, come dire, veramente poi la musica, per esempio, si fa in band, no? Si fa in gruppo, e quindi queste, tra l'altro, erano orfane senza famiglia, oppure mollate lì, parcheggiate, oppure donne abbandonate, quindi che non sapevano dove andare. E, come dire, si parla di sorellanza perché sono una specie di famiglia acquisita, no? Sono, vivono da quando sono minuscole, ed è ovvio che nel film ci sono anche tutti i momenti appunto di frustrazione, di invidia che riguardano anche la realizzazione. Magari una vede che l'altra sta in un momento della sua vita più felice, più avanzato, più soddisfatta e più realizzata, e quindi Rose che la tratta male. Insomma, ci sono delle dinamiche che... Poi tu hai due sorelle. Io ho due sorelle e tu una che ha lavorato anche con te sul film, no? Sì, che ha fatto l'Alberta, che ha fatto l'assistente alla regia. E la cosa che, appunto, anche questo è un altro spoiler, però a un certo punto una di queste cinque si ammala, diciamo, a forza di essere, di ricevere questi no, di essere frustrata, soprattutto sulla sua creatività, su delle cose, sulla sua capacità poi di scrivere, di comporre. È perfettamente in grado di farlo, ma il mondo fuori le dice non ci interessa, la tua musica non risuonerà mai al di fuori di qua dentro. E a un certo punto una di queste si ammala abbastanza e ritorna abbastanza in vita solo grazie agli affetti, alle altre, alle altre che dicono, ok, si va avanti tutte insieme, non è che se ne può perdere una per strada. E questa è una cosa veramente molto bella, anche perché spesso nei film che parlano di donne o, insomma, in cui ci sono dei ruoli femminili, delle storie che riguardano le donne, di solito c'è sempre la violenza, il trauma come motore della trama. Invece qui no, quello che è il motore poi di tutta la storia è la ricerca della gioia. Sì, sì, assolutamente, sono loro che vogliono stare meglio, che vogliono realizzarsi. Esatto, quindi... E nessuno le viene a salvare, diciamo. Esatto, non c'è né un cavaliere esterno che le salva, né appunto c'è chissà che trauma, chissà che... Beh, traumi un po' ce ne hanno, però... Sì, vabbè, parliamo sempre di orfane che sono in un istituto, però, insomma, è un film anche di realizzazione personale, di ricerca della gioia e della felicità. Non è molto facile raccontare delle storie che parlano di gioia, perché in realtà nell'arte, nel cinema, ma anche nelle canzoni è quasi più semplice parlare di storie tristi, no? Perché coinvolgono di più. Coinvolgere con una storia allegra... Sì, che però non è comica, perché comunque non può essere... Non può neanche essere catalogata come una commedia, in realtà. Pensa in inglese, al Berlino, al Festival di Berlino, che è la prima volta che l'abbiamo proiettato, ho visto che l'avano categorizzato come musical drama, che non è un musical, ovviamente, però la parola musicale dava comunque per forza quel brio, anche, no? quel sottotesto positivo, però drama comunque, perché di cose un po' tristi gli succedono. Io quando ho visto il film, per la prima volta in anteprima, un paio di settimane fa, forse due, tre settimane fa, la prima cosa che ho pensato uscita dalla sala è stata, se avessi visto questo film a 13 anni, mi sarebbe esploso il cervello, nel senso che è un film talmente ispirazionale per le ragazze, che di solito non hanno degli esempi positivi da perseguire, e una storia così positiva di costruzione della propria personalità, del proprio talento, di sicurezza, anche di sorrellanza, penso che a me avrebbe fatto molto molto bene, quindi mi chiedo... Forse anche a me. Se hai pensato a una roba del genere anche tu, cioè se l'avessi visto tu... Ho capito cosa intendevi, io per esempio da ragazzina avevo pochissime amiche femmine, ero sempre la maschiaccia in mezzo ai maschi, ma anche l'adolescenza, no? E anzi, temevo anche a volte dei rapporti con... Ovviamente c'avevo delle amiche femmine, però era come se sentissi nel profondo che ah no, io mi trovo meglio con i maschi, non lo so, come se ci fosse questa attrazione per il diverso, per cui... E invece no, invece poi crescendo ho capito che senza una bella rete intorno di compagne, di amiche, di sorelle, cugine con cui crescere, capire, raccontare... Insomma, non avrei scritto il film che ho scritto se in età più adulta non mi fossi accorta di quanto è importante il valore delle amicizie femminili. E quindi sì, anche io forse se l'avessi visto da piccola... E dal punto di vista invece di te come musicista, cioè, penso che una cosa molto difficile, almeno per quelli della nostra generazione millennial, entrare in dei campi in cui gli esempi femminili c'erano ma erano veramente pochi, non è stato semplicissimo. Adesso già vediamo una realtà molto diversa, guardiamo anche alle classifiche dei dischi, o a Sanremo ci sono un sacco di musiciste in più rispetto anche banalmente a sette anni fa. E quindi pensi che questo film possa ispirare magari una nuova generazione di piccole musiciste? Ma lo spero di sicuro è dedicato anche alle musiciste, è dedicato a tutti quelli, ripeto, che hanno un rapporto profondo e intimo con la musica, ma anche a tutti quelli che vorrebbero vivere di musica. Quindi, sì, non lo so, per quanto riguarda le musiciste, appunto, le donne, ce ne sono ancora un po' pochine proprio di donne che scrivono e poi interpretano, ce ne sono ma sono comunque pochine. Ho letto una statistica che negli ultimi 16 anni di Sanremo, quindi quante canzoni saranno negli ultimi 16 anni di Sanremo? Tante. Solo quattro erano state scritte e interpretate da una donna, da solo una donna, di cui due erano di Levante, quindi proprio al Levante bisogna fargli tipo la statua, che è una delle, sta proprio sul podio, primo e secondo posto. Sono statistiche, io non ne faccio mai una questione ideologica, è una questione statistica, quindi è inutile che uno dice, no, vabbè, femminismo, basta, avete rotto. Figurati, può pure aver rotto il concetto, ma poi è una realtà, è una realtà scientifica, e quindi un po' il film ovviamente è di fantasia, però parte da quel presupposto lì. Chissà quanti talenti sono esistiti che non, cioè come dice sempre il motto di Key Change, che è questo movimento di cui faccio parte, che cerca un po' di portare luce sulla parità dei generi nella musica, dice, il talento è equamente distribuito, perché ovviamente è così, non si sa chi, ma in generale è equamente distribuito, le opportunità un po' meno, ma grazie, è una questione di società, di famoso retaggio culturale, che sembra una parola pesante, ma quella è... Non siamo più ai tempi in cui è ambientato Gloria, però insomma c'è ancora strada da fare. Beh, siamo due secoli dopo, quindi sì, in termini geologici è tipo meno di un millimetro. E mi raccontavi prima che tu sei un po' un'accumulatrice seriale, per cui quando è finito il film hai tenuto per te un po' di cose, ma non parliamo di un bicchiere, no, ti sei tenuta a un pianoforte. Sì, un pianoforte di due metri e mezzo, ma ovviamente a casa mia in Roma non c'entra, perché vivono in un appartamento, quindi l'ho tipo smontato e messo in un deposito, sperando un giorno di diventare molto ricca e avere un salotto enorme. Speriamo che questo film aiuti. Speriamo, beh oddio, magari il prossimo. E quindi sì, mi sono tenuta a questo pianoforte che è stato costruito apposta per il film, un assemblaggio di due pianoforti, tra l'altro è una follia perché è un pianoforte che neanche suona, cioè lo devi attaccare alla cassa per farlo suonare, quindi proprio così un beso. Mi stavi spiegando che hai i tasti di avorio, perché ovviamente all'epoca i pianoforti avevano i tasti di avorio. Ora è illegale avere i tasti di avorio, però sì, è un assemblaggio di due pianoforti che ha fatto lo scenografo e mi serviva che fosse, ed è un pianoforte muto, nel senso che gli è stato levato tutto il meccanismo, cioè i martelletti sì, perché poi si vede in scena, però insomma è stato modificato da un glutaio per cui poi non suona, però gli è stato messo sotto il sistema AD Silent, cioè una tastiera in microfibra, con i microchip, insomma sono negata con la tecnologia, mi scusi signora Apple. Insomma è un pianoforte che se lo attacchi alla cassa suona, perché c'è una tastiera sottilissima MIDI messa sotto i tasti, perché sul set mi servivano alcune scene che fosse muta, perché dovevano parlarci sopra e quindi poi ho ridoppiato le mani e in altre scene mi serviva invece che suonassero, ma è ovvio che non andava bene il suono di presa diretta, dovevano suonare su un playback, ma è difficilissimo fare il playback su un suono senza sentire cosa stai suonando, quindi ci abbiamo messo mesi, ma è stato costruito questo pianoforte e me lo sono messo in una cantina e non so bene che fine farà, cioè non lo so, ripeto, appena c'avrò una bella casa me lo... Ma quindi se ho ben capito le mani che si vedono suonare il pianoforte nel film sono le tue o sono le attrici? No, le attrici hanno studiato per tre mesi, quattro sono violiniste, quindi hanno suonato con un coach di violino, la protagonista è questa autodidatta, è Teresa, lei ha imparato tutte le parti iniziali delle scene, per cui uno poi fa cascare lo spettatore nel tranello, per cui sì sì è lei che suona tranquillo, perché passi dalla faccia alle mani e quindi dice mazza questa attrice sa suonare, e poi in realtà tutte le parti più difficili erano strette sulle mani e faceva la sua controfigura. Ma mi parli un po' meglio di queste attrici perché non sono proprio le ultime arrivate, insomma sono delle attrici di tutto rispetto, alcune diciamo vengono dalla musica come te, altre invece sono molto quotate nel cinema d'essere diciamo italiano-francese, come le avete selezionate? Ma come ti dicevo prima un po' per il volto e la voce, la voce in un film d'epoca secondo me è fondamentale perché esiste, io per esempio ho un modo di parlare un po' moderno, sono un po' sguagliata, sguagliata, senti sono sguagliata, ci sono delle persone, tu hai anche una voce un po' antica, fai una voce un po'. Grazie, ho un futuro nei film in costume. No anche un volto, un po' stupenda, sei un po' orgoglio e pregiudizio, vero? Comunque sono Galatea Bellugi, è una delle protagoniste, è un'attrice franco danese, candidata quest'anno ai Cesar e lei lavora molto in Francia ma anche in Italia perché ha padre l'italiano, e Carlotta Gamba che ora sarà nella prossima serie dei Fratelli di Innocenzo, ha già fatto un film con loro, ha lavorato con Pupiavati, è un'attrice bravissima e poi c'è Veronica Lucchesi della rappresentante di Lista che è un'attrice pazzesca. Lei viene dal teatro se non sbaglio. Lei ha lavorato con Emma Dante, studiato con Emma Dante, poi ha conosciuto Dario Mangiaracina, ha iniziato il suo progetto musicale che è durato, cioè oggi è uscito il singolo, il nuovo singolo della rappresentante, però è una che, ho scritto proprio il personaggio su di lei, lei era l'unica a cui ho proposto il film e poi c'è Sara Mafodda, Maria Vittoria Dall'Asta che sono una che viene dal teatro e l'altra invece è una specie di attrice prodigio che lavora da quando ho otto anni e sono delle giovani attrici tutte molto brave, sì. E diciamo questi talenti femminili ritornano perché hai scritto il film con Anita Rivaroli, giusto? Sì, una sceneggiatrice. Anche lei è sceneggiatrice molto molto brava e come sono andate le cose con lei? Ma me l'hanno fatto conoscere i miei produttori di Tempesta perché io gli ho detto a un certo punto ho sentito io da sola, non sono capace, cioè va bene, abbiamo l'idea, abbiamo tutto in testa, ho già quasi le musiche, però ero un po' frustrata, cioè non sono capace, ho bisogno di una sceneggiatrice. E Anita Rivaroli semplicemente io l'ho, come dire, avevo già raccolto tantissima documentazione, avevo già i nomi dei personaggi in testa, però da lì a scrivere una trama che abbia senso, una struttura, è stato molto figo, abbiamo lavorato durante il covid, quindi a distanza, che è stato un po' faticoso, però le call se non ne fai troppe comunque portano al sodo, o no? Nel senso, no, sono dispersive? No, io penso il contrario, cioè è talmente poco carino stare online che cerchi di concludere velocemente. Esatto, la cosa bella con lei, dopo che abbiamo scritto il trattamento, il soggetto, ci abbiamo messo un annetto e mezzo per avere tutta la struttura come volevamo, siamo poi arrivati alla fase della sceneggiatura e io non avevo mai scritto una sceneggiatura. E dicevo, oddio, e mo come, ok, la storia ce l'abbiamo, è tutto nei dettagli. E lei è super carina, bravissima, mi ha detto, tranquilla, poi lei dice Zena, molto posata, è una grande. Adesso io scrivo le prime 15 pagine, poi te lo passo e tu scrivi le altre 15 e poi ce lo rimpalliamo così. E in effetti, quando mi sono arrivate le sue prime 15 pagine, ho detto, vabbè, ma è fatta. Cioè, aveva, come dire, aveva dato il via a tutto, facendo le prime descrizioni, siamo, c'è una laguina. Lei anche viene dalla musica, se non sbaglio, quindi era perfetta. Sì, sì, lei è una dei fondatori di Rock in Mille, che è stata fatta a Cesena per il concerto dei Foo Fighters, ricordi? E lei era una dei 5-6 gruppo di amici che hanno fondato Rock in Mille, lei ci ha fatto poi il documentario, ha pure vinto il premio al SX o SV, vabbè, un festival di... South by Southwest. Esatto, quello. Austin, bello. E quindi è anche una regista, ha fatto un documentario bellissimo. E per concludere, diciamo, questo parterre di talenti assurdi, femminili, di quali ti sei circondata, in realtà una persona che non ha lavorato il film, ma è stata un po' una fattina madre, è Alice Rollbacher. Io non lo sapevo, però devo dire che guardando il film ho pensato moltissimo al suo cinema, perché penso che il tuo film Gloria condivida con i suoi lavori un certo realismo magico, una sospensione un po' spirituale, che allo stesso tempo però ha le mani nella terra, quindi anche molto molto concreta, molto animale anche. Beh, è stata sicuramente una fonte di ispirazione, perché amo tutto quello che fa, nello specifico però un po' è vero, è la madrina del film, perché Alice Rollbacher era molto fan del mio primo album e lo ascoltava sempre con la sua bimba piccola, insomma, che è uscito ormai dieci anni fa. E quindi è stata lei che mi ha messo, in particolare amava una canzone che si chiama L'impavido pettirosso, molto in effetti nel suo immaginario. E quindi il film è prodotto dagli stessi produttori di Alice Rollbacher, che è Tempesta, quindi mi ha messo, come dire, ha messo la pulce nell'orecchio a Carlo Crestodino, al suo produttore, gli ha detto ma perché non vai a conoscerla? Secondo me potrebbe avere una storia per un film e io sono cascata dalla sedia perché già questa ricerca sulle compositrici io la stavo facendo da almeno due anni. Quindi tu ce l'avevi già ma non sapevi di… Beh, ce l'avevo però io sempre, cioè, idee per un film l'ho sempre voluto fare, quindi io ho sempre, come dire, fatto le mie ricerche per cercare… Cioè tu mi stai dicendo che da quando sei piccola hai sempre avuto idee per film? Era il mio sogno, quello che volevo fare era portare la musica nel… Sì, ma perché sono cresciuta con una madre matta, con tanta fantasia, che ci faceva mettere in scena le canzoni di Battisti. Diceva, sentite io esco e vado a fare la spesa, tra due ore dovete fare innocenti evasioni, tu fai l'amante, tu fai la moglie, tu fai il marito e tra due ore prendete tutti i props e gli oggetti in scena e mi fate vedere innocenti evasioni. Sì, cioè, quindi sono cresciuta con quello stampino, tipo che nella musica c'è sempre un racconto, c'è sempre un livello anche molto più, come dire, drammaturgico, no? La musica può sempre essere messa in scena. È molto bello perché tra l'altro in un'altra conversazione che abbiamo avuto due anni fa parlavamo proprio delle storie all'interno della musica perché spesso c'è musica che non parla di niente e a volte va bene così, ma è anche molto bello quando la musica racconta delle storie e in questo tuo, nel caso del tuo film invece è una storia che racconta di musica, quindi è veramente molto molto bello. Ultimissima domanda perché siamo arrivati, ahimè, al termine di questa bella chiacchierata. Cosa speri per questo film? Dove deve arrivare? A chi deve arrivare? Cosa deve diventare? Beh, innanzitutto già ora qualche giretto all'estero se lo fa perché il Festival di Berlino, dove ci hanno preso in concorso, è stato un bel biglietto da visita. Spero che sull'onda dell'entusiasmo anche di chi lo vede, forse sarò un po' egoista, però spero che mi ispiri per farne un altro, altrettanto per me importante e profondo. Poi ovvio che spero che vada nei conservatori, nelle scuole, ora perché la scuola sta affinando, però questo è un film perfetto per gli adolescenti, quindi uno ci può andare con i figli o con i nonni perché poi c'è tutta la Venezia barocca, quindi è molto trasversale come film. Quindi io gli auguro che riesca ad essere il più trasversale possibile. E poi ti voglio dire solo una cosa che voglio aggiungere perché di tutti un film è una cosa veramente corale e è vero abbiamo citato un sacco di talenti femminili, di donne e ragazze che ci hanno lavorato, però io volevo anche citare Gianluca Palma che è il dirittore della fotografia che ha dato veramente uno spessore. Io vedo online che la fotografia riceve dei complimenti da tutti perché sembrano dei quadri le scene. Sembrano dei quadri, sì, e quando gli dicevo Gianlu deve essere polveroso, polveroso, lui da poche parole abbruzzate e diceva va bene polveroso, polveroso e poi in realtà ha tradotto e ovviamente ha messo del suo, quindi c'è Luca Palma oppure Christian Marsiglia per il montaggio. Il film ha tantissime fasi ed è assurdo che in ogni fase io sto proprio gomito a gomito con qualcuno, no? Come se è un figlio che passa di mano in mano però poi la madre sta sempre lì a fargli da guardia. Ora lo lascio andare, ora basta, è stato partorito. Però no, volevo insomma citare anche Gianluca, appunto Palma e Christian Marsiglia perché ci sono tante persone dietro un film. Immagino. Io ti ringrazio Margherita, è stata una bellissima chiacchierata, un applauso Margherita Vicario, Gloria, nei cinema. E grazie anche a Nura Labash, ottima intervistatrice e direttrice di Innumerevoli Cose. E ne approfitto per fare un'ultima domanda, visto che abbiamo scoperto prima in realtà che questo film è stato prodotto e realizzato in un modo particolare, nel senso che il cinema in generale ha un potere di influenza sulle persone incredibile. Pensiamo a Don't Look Up qualche anno fa, il film di Netflix di Natale, L'asteroide, che parlava di crisi climatica, comunque se ne ha parlato tantissimo ed è uno strumento che arriva davvero a tutte le persone, ha il potere di cambiare il mondo mille volte di più un film fatto bene trasversale. Ma anche come si fanno i film, anche quello può cambiare il mondo. Anche quelli hanno un impatto. E quindi voi avete già in questo film, da qualche anno si inizia a capire anche quanto, come realizzare proprio fisicamente un film, il cappello da ingegnere energetico triste, ma insomma anche oggi, però l'avete fatto anche in questo film, provato a capire come ridurre anche l'impatto del film stesso. Sì sì, questo Gloria è stato girato rispettando un protocollo che si chiama il protocollo Eco Movie, che tra l'altro è stato inventato da Carlo Cristodina, che è il produttore di Tempesta, quindi figurati se in un film suo e in tutti i film di Tempesta si rispetta questo protocollo Eco Movie, che già il film era un po' Eco Movie di suo perché è ambientato nell'Ottocento, quindi insomma al massimo non c'è tutto due cavalli, per esempio, anche solo quello. Però c'è tutto un pledge, come si dice, un impegno, una lettera d'intenti, per cui tra l'altro ci sono anche delle agevolazioni economiche, cioè se tu aderisci al progetto Eco Movie con la tua casa di produzione, però è stato bello vedere un set dove veramente non esiste plastica monouso e in tutte le fasi, ora addirittura Eco Movie sta cercando di espanderlo alla post-produzione, perché un conto è sulle riprese quando ci sono 70 persone insieme che tutti i giorni mangiano, no? Una volta fanno anche due pasti, anche solo avere le posate di metallo. Che è più bello tra le altre cose. A parte che ti dici, ah, ora è una bella pausa pranzo, che non si spezza il coltello. Però, no no, Eco Movie è super, certo, no no, va fatto. Io suggerisco a chiunque ha una casa di produzione, tra l'altro conviene, conviene, ti fa sentire meglio anche a fine giornata. Viene migliorata anche la crew, insomma, del… Beh sì. Siete cambiati anche voi dopo il film. Sì, sì, beh, mangiare sui piatti e non nei cestini di plastica migliora la vita, assolutamente. Quindi esatto, migliora la qualità della vita in ogni caso. Grazie ancora a tutte le persone presenti a News dal pianeta Terra Live. Noi ci vediamo domani, che è sabato 20 aprile, giusto, sabato 20 aprile, con Parasite Parasite e Bianca Felicori di Forgotten Architecture per la nuova puntata di News dal pianeta Terra Live. Grazie ancora Margherita Vicario e Nur Al-Abbash. Grazie, ciao. Grazie. Grazie.